Obiettivo ecoturismo e la green tourism e le opportunità di sviluppo e occupazione del turismo verde nella terra delle Grevine sono state al centro del Job Day che si è svolto a Massafra nella Palazzo della Cultura, organizzato da Sistema Impresa Conf Commercio Taranto nell'ambito della misura punti cardinali. I relatori hanno illustrato le occasioni che derivano dall'ecoturismo, cammini, itinerari culturali, percorsi cicloturistici e un nuovo modello, il turismo lento. Fare turismo lento vuol dire fare un turismo dove ci si muove con mezzi di trasporto alternativi, a piedi tantissimo, con la bicicletta, con il cavallo, è una forma di esplorazione del territorio che viene ritornata, ma oltre che muoversi con queste forme di mobilità dolce, il turismo lento è un turismo che è centrato sulla dimensione del benessere della persona a 360 gradi. Tra gli esempi da seguire, quello del cammino materano. Un cammino mette a sistema tutte quelle che sono le attrazioni, le bellezze di un territorio, a partire da quello paesaggistico, quello culturale, quello enogastronomico, quindi è davvero un'opportunità che non bisogna lasciarsi scappare. Serve però un ulteriore salto di qualità nel campo dell'ospitalità. Vanno date agli ospiti informazioni che riguardano la città, informazioni non soltanto su quelli che sono i siti che compongono, che sono presenti sul territorio, ma anche l'artigianato piuttosto che la gastronomia del territorio.